eccomi qua eccomi qua sono pronta prontissima carico la partita eccoci sir papero eccoci come va eccola qua ci corre incontro allora dovevamo andare qua spalle in gamba cara questi sono i dialoghi di ieri di ieri che abbiamo già sentito la mia parte preferita del gioco è quando cirio dice it's yakuza in time e poi li accusa tutti e vabbè e vabbè veniamoci che ti devo dire oh la la ma vabbè oh è spazzato eh nosaki però 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 questo cos'è pop perché ho metà vita dai levatevi andiamo a mangiare andiamo a mangiare questo ah no ma qua si beve solo però anche il bere mi fa vai il tè no onestamente non mi serve ah c'era da scegliere il bere poi il mangiare buongiorno a me rivo so so Sashimi Beh partiamo da su Ok Torniamo a noi Vieni amica Gori Qua? Sugar Rose Si Qua? 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Questo Grazie a tutti 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 Ma io Grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti 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 Come 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 come? Grazie a tutti 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 Andiamo da Grazie a tutti 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 Ero... 3, 2, 1, GO! Ma se sto schiacciando! C'è! 3, 2, 1, GO! Mamma mia! C'è stato un momento in cui proprio non... Sembrava che non schiacciassi i tasti! Bra, bra! 860! Dai, devo fare 900! Schifo! Ma come? Perché me l'ha data buona? 900! Cantiamo per la bambina! No, che citto! Canteremo nuovamente Bakamitai No, no, non ho nessuno sconto Tutto regolare I sing for you Hara è me Egao Mi se ta I love you Grazie a tutti. Non lo so più. Ma perché c'è quello delle macchinine, tra l'altro, nel video? Che senso ha? Perché? Perché c'è lui depresso che canta e c'è il tizio delle macchinine? Eh, proprio come uno dei cantanti in tv, uguale uguale. In quale tv esatto? In quale tv? Cosa ha le pietre del ghiaccio nel drink? Le pietre di ghiaccio? Probabilmente sì. Allora mi porto là vicino e poi stacco. Allora mi porto là vicino e poi c'è il tizio delle macchinine. Allora mi porto là vicino. 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 regionale, teleladispoli forse forse ma nemmeno mi sa sicuro su teleladispoli sono più bravi in questo? oh che burlone comunque mi fermerò qui assieme alla bambuina sarà talcarò che subito mamma mia allora noi ci vediamo aspettate un attimo ci vediamo domani alle 5 vi confermo se mi scorda fatemi vedere se c'è qualcuno da raidare si raidiamo B.L.A. che sta giocando The Last Phase che forse 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 potrebbe interessare a Leonida è tipo un Metroidvania somiglia a un sacco a Castelvania però magari potrebbe essere interessante non per me perché io mai nella vita allora aspettate che digito e poi vi salutaschio l'hai veduto? bene allora ringrazio tutti quanti per la compagnia vi auguro buona serata e buona treina ci vediamo domani interessante mamma noia ok e niente adio mesami adio adio adio